Non è una novità la difficoltà che sta vivendo in questi mesi il comparto del trasporto pubblico veronese. Già qualche settimana fa altre manifestazioni avevano interessato i lavoratori dell'ATVI che anche oggi tornano a chiedere all'azienda maggiore sicurezza per lavoratori e utenti, migliori condizioni salariali e normative. E per domani, primo giorno di scuola, è previsto uno sciopero che però non vuole impattare sulla ripresa delle lezioni nelle scuole di città e provincia. C'è un'economia di scala che non prevede assunzioni ma prevede un'alta mole del lavoro sul personale e il personale in un certo senso è costretto per gli stipendi troppo bassi. Tant'è vero che solo nel 2019 abbiamo avuto 35 persone che se ne sono andate perché comunque con gli stipendi non riuscivano a vivere a Verona. Le persone che rimangono per avere uno stipendio o quanto meno che permetta di sopravvivere sono costretti a fare degli straordinari. Questo fa sì che comunque ci sia un impegno giornaliero che vada la mattina comunque alla sera perché il servizio di un conducente viene spezzettato nelle varie fasi della giornata in cui c'è l'alta adesione dell'utenza. Con il consiglio di amministrazione l'azienda ha bloccato dei concorsi ad esempio per le officine che sono un settore molto importante per la nostra azienda perché fanno la manutenzione ai nostri autobus e noi abbiamo bisogno che i nostri autobus vengano venga fatta la manutenzione nel momento in cui sono fermi perché nelle ore di punta ci servono tutti e sono ancora pochi. Ecco questo è. Altra cosa importantissima che noi vogliamo ribadire sempre è che noi abbiamo scelto nell'ultimo sciopero di fare lo sciopero di domenica pomeriggio per non penalizzare i nostri utenti. Oggi abbiamo scelto di fare lo sciopero l'11 di settembre quando iniziano le scuole ma non la mattina per penalizzare ma dalle 16.30 a mezzanotte e mezza perché il nostro intento è quello che arrivi un messaggio importante all'azienda ma non solo ma anche alla proprietà dell'azienda che capisca che tutti sappiano che nessuno possa dire che non abbiamo comunicato che questo disagio c'è.